Il Mondio Ring è un vero e proprio sport cinofilo riservato ai cani di tutte le razze provvisti di pedigree. Nel gennaio scorso la Federazione Cinologica Internazionale, che ha sede in Belgio, ha fatto un vero e proprio grande regalo all'Alto Adige assegnando alla locale sezione dell'ente nazionale cinofilia l'organizzazione della Coppa del Mondo. Tra il primo e il 5 di ottobre le gare si tengono nell'area della Caserma Rossi di Merano, una ventina le nazioni rappresentate. I cani, vien da sé, sono tutti addestrati ad obbedire anche a ordini difficilmente percepibili. La gara si compone di tre parti, una parte di obbedienza dove troviamo il riporto, l'invio in avanti, la marcia al piede, il rifiuto del cibo da un estraneo e tanti altri. Poi c'è una parte di salti dove abbiamo proprio dei salti che definiscono le performance fisiche, perché abbiamo una palizzata che può arrivare fino a 2,30 metri, un salto in lungo che può arrivare a 4 metri, un salto in alto fino a 1,20 metri, dove gli stessi conduttori scelgono le misure per poter prendere più punti possibili e arrivare altri in classifica. Dopodiché cominciano, e solo dopo, gli esercizi di difesa, proprio perché prima dobbiamo far vedere che questi cani sono completamente sotto controllo per poterli far accedere agli esercizi di difesa. E questa è forse la parte che più impressiona, soprattutto coloro i quali non hanno un ottimo rapporto con i cani. Andiamo a vedere allora cosa sono esattamente gli esercizi di difesa. Provengono dagli esercizi delle discipline più militari, dove i figuranti, che oggi sono svizzeri e belga, mimano la scena di un delinquente nei vari esercizi.